Noi abbiamo avuto anche casi di donatori disponibili che hanno risposto alla chiamata della compatibilità, ma positivi al Covid, che quindi non hanno potuto intraprendere il vero e proprio percorso di donazione. Anche la realtà del trappianto di midollo osseo è stata travolta dal Covid così come quella della donazione di sangue ed è ancora difficile, come conferma Paola Baiguera, volontaria e presidente di Admo Padova, tornare ai livelli pre-Covid. Impatto devastante perché ha allontanato i giovani dagli ospedali e dalle strutture a cui rivolgersi per entrare nei registri attraverso un apposito esame del sangue o della saliva. Ci stiamo accorgendo adesso del sangue che manca perché sono tutte le donazioni che non sono avvenute nei mesi passati, perché ricordiamo sempre che il sangue donato non va in automatico in donazione e i donatori che si tipizzano oggi non vanno in automatico in donazione, ma devono attendere un periodo proprio di ricerca, di compatibilità e tra l'altro attendere il momento migliore della salute del donatore. E per avvicinare ancora di più i giovani al messaggio del dono, la donazione di cellule staminali è diventata un docufilm sbarcato venerdì alla mostra del cinema di Venezia. Otto tappe in un viaggio per la regia di Paolo Arala dal titolo Il tour del dono in bicicletta attraverso il Veneto. Il pluriatleta Massimo Braconi incontra i medici dei centri trasfusionali, i donatori e i volontari di Admo. Il docufilm è pieno di contenuti informativi, rassicuranti, ben costruiti, rassicuranti perché in realtà raccontano quello che davvero succede, quindi smitizzano questo mondo da tutte le preoccupazioni, da tutte le paure che magari i ragazzi possono avere. Abbiamo bisogno di donazioni perché, come mi piace dire, noi siamo qui ma la malattia amatologica non sta alla finestra, quindi non aspetta a noi, le persone si ammalano e l'unica cosa che noi possiamo fare è rispondere prontamente con il vostro impegno a reclutare nuovi donatori, il nostro impegno istituzionale a mettere i pazienti nelle condizioni di essere trapiantati il più presto possibile. Il documentario potrebbe presto essere trasmesso nelle scuole del Veneto. L'obiettivo è trovare quanti più donatori compatibili con le persone in attesa di trapianto.